Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani, io insegno alle persone come connettersi con le nuove frequenze di luce e mi trovo qui con Rosa Maria Cristiani. Ciao Rosa Maria, buongiorno. Ciao Rossella, ciao, è un piacere, grazie, è un piacere tutto mio, siamo qui perché Rosa Maria ha partecipato al corso di nove settimane per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce, abbiamo fatto anche un percorso importante con Logo Sealing e lei è qui per condividere con noi la sua esperienza. Allora Rosa Maria ti lascio lo spazio, raccontaci un po' com'è andata. Allora, non ho parole nel senso che è stato bellissimo, è stato un percorso che è stato molto molto importante per me, è arrivato come ogni corso, ogni terapeuta è arrivato sempre nel momento giusto della mia vita per portarmi avanti, per liberarmi di tante cose, di essere libera per il mio cammino, per la mia evoluzione. È stato veramente molto molto importante, è stato molto bello. Che bello, bene. Ascolta, parlami un po' delle nuove frequenze di luce, come è stato lavorare con queste energie meravigliose? Allora, io già ho visto, io sono un'operatrice olistico e come primo lavoro faccio la parrucchiera e comunque ho scoperto, lavando le teste, ho scoperto questo dono del tocco, del massaggio. Io, grazie a Dio, come ti ho detto prima, mi sei arrivata al momento giusto perché vengo da una situazione di qualche anno fa che mi è capitato, che mi ha portato proprio ad abbassare radicalmente in quel momento le mie frequenze, ma proprio una cosa vum immediata di uno shock che ho avuto e ho visto il buio, ho visto proprio il buio. E lì ho capito che no, non sono sola e anche se c'è il buio io ce la posso fare. E lì è stata veramente una grande salvezza il mio credere, il mio essere di tutti questi anni di lavoro, di crescita interiore che ho fatto in passato da quando ho 19 anni. E sono molto fiera di me stessa che sono riuscita veramente con l'aiuto delle mie guide, degli angeli di queste frequenze che io conoscevo prima di andare avanti e mi sono liberata. Solo che mancava un qualcosa per arrivare alla cima, a dove ero caduta, proprio perché è stata una caduta molto, molto, molto forte. e poi si è arrivato a te, si è arrivata a te. Questo corso mi ha riportato nella mia centratura, nella mia luce. Il mio canale energetico è di nuovo forte e lo sento e sono veramente, cioè sono grata a queste nuove frequenze energetiche. C'è proprio la parola, quando io ti vedevo sui social, mi appariva sempre davanti i tuoi video. L'unica cosa è che leggevo le nuove frequenze energetiche, le nuove frequenze energetiche. Stavano chiamando. Cioè mi risponavano, sì, mi stavano proprio chiamando, no? E poi vabbè, ti ho contattata e ho capito. Quando ti ho sentito con la tua gioia, credo che attraverso di te hanno parlato gli angeli e lì ho capito che ero di nuovo al posto giusto. Com'è bello, che meraviglia. Mamma mia, mi sono venuti tutti i brividi, Rosa. Che bello, sono tanto contenta. Ascolta, quindi le frequenze sono determinanti in questo cambiamento che tu hai avuto in questo processo, però anche Logo Sealing penso che ti abbia aiutato tanto. Parlami un po' di Logo Sealing. Com'è stato per te fare questo lavoro straordinario attraverso il potere della parola e con l'aiuto dell'arcangelo Michele. Dimmi un po'. È stato molto, molto potente perché visto, mi è piaciuto tanto che noi, cioè, tu ci hai fatto tanto lavorare durante il percorso, ma parecchio. Io ho fatto tanti di corsi, ma non mai lavorato così tanto come con te. Veramente. E poi è stato bellissimo sentire il potere del gruppo. Questo è molto, molto, molto importante, il potere del gruppo. Sì, Logo Sealing mi ha aiutato tantissimo. Lo sto, è da poco che veramente a caso lo sto praticando, ti devo dire la verità. Però io già, quando tu la prima volta ci hai fatto vedere come funzionava, subito mi sono arrivati i ricordi che già avevo fatto un tipo di percorso, ma questo ti dico di vent'anni fa, e non l'ho mai usato. Poi il tuo, secondo me, è potentissimo, poi con l'arcangelo Michele, con queste nuove frequenze di luce, è di una potenza... mi sento a casa mia, mi sento a casa mia. Che bello, sono tanto contenta Rosa Maria. Guarda, sono felice perché da quando ci siamo riconosciute ad oggi la tua energia ha fatto un salto quantico enorme, eri sempre molto solare, cioè da quando ci siamo incontrate, però proprio sento che ti sei liberata da pesi importanti. E questo è bellissimo perché adesso proseguirai nella tua attività uristica, nella tua attività di tutti i giorni, nella vita di tutti i giorni, con degli strumenti che prima non conoscevi. Ascolta, pensi che proporrai le nuove frequenze logo sealing nel tuo centro uristico? Sì, sì, quello sicuro. Adesso un po' ho iniziato ieri, infatti, con una cliente, ne ho un po' parlato per iniziare un percorso, oltre al massaggio che faccio, di integrare questo tipo di pratica, diciamo. Mi c'è voluto un attimino, non ho subito iniziato a lavorare e poi comunque è importante prima liberarci noi, lavorare su di noi, per poi dopo trasmettere agli altri, perché a livello energetico si sente tantissimo. Cioè, ciò che io ho sentito tantissimo, che te l'ho anche detto, l'ho detto in gruppo, mentre facevo i massaggi, io sentivo, cioè, sentivo questa nuova frequenza che andava. E anche quando lavavo le teste, cioè, è una cosa incredibile, mi dicevano proprio i clienti, no? E io facevo il sorvisino, ero contenta, perché quanto si può dare benessere alle persone è qualcosa di molto, molto, molto bello. E poi non sono, dico sempre che non sono io, c'è qualcosa superiore, vengo guidata nel aiutare le persone, nel dare il bene in quel momento in cui loro hanno bisogno, no? Assolutamente. Bellissimo, grazie. Grazie a te. Ascolta, il tuo centro olistico dove si trova, Rosa Maria? Il mio centro olistico si trova a Città di Castello, in provincia di Perugia, che è in Umbria. Ok. Si chiama? Si, all'interno. Si chiama Semplicemente per te. Ok. Beh, se ti vogliono contattare, sanno dove contattarti. Bene. L'ultima domanda, a chi consiglieresti questo percorso con le nuove frequenze di luce? Ah, vabbè, è chiaro, è per tutti. Per tutti, perché abbiamo bisogno tutti di riconnetterci a noi stessi, alla nostra anima, di riquelibrarci e di avere tanta stabilità e così abbiamo un... stiamo bene, stanno bene anche chi sta attorno a noi, perché la nostra energia, il nostro campo energetico si carica e si espande e senza parlare le persone se ne accorgono. Tu impatti anche le altre persone con la tua energia, col tuo sorriso alla fine, no? Giustissimo, che bella che sei. Grazie, Rosa Maria, la tua testimonianza è preziosa. Io ti tengo nel mio cuore tanta luce, tante benedizioni che tutti i tuoi sogni si possano realizzare e che tu possa trasmettere queste nuove frequenze a più persone possibili, veramente. Ce n'è bisogno, come dici tu, veramente. Ce n'è tanto bisogno e soprattutto sono contenta che mi sono... brillo anch'io di nuovo come un diamante e così... l'importante è la cosa principale che dobbiamo stare bene prima noi stessi, l'importante è stare bene con noi stessi, il resto accade da sé. Esatto, esatto. Grazie, grazie col cuore. Un abbraccio immenso, Rosa Maria. A presto. Grazie a te, Rossella. Grazie mille. Ciao. Ciao, ciao.